Eccoci qui, l'Isola degli Spiriti del medico McDonagh, o Amato in Bruges, sette psicopatici. Ci è piaciuto questo film, ve lo dico tra un po', se non è troppo facile, è un film che in italiano è stato tradotto in questo modo, il titolo chiaramente in originale c'era un riferimento alla Benshee, una figura mitologica che conosco molto bene, perché, come ho raccontato in un paio di live al Cerbero, io giocavo a Warhammer, Warhammer Fantasy, e il mio esercito erano proprio i Conti Vampiro. Pensate un po', pensate un po' che stranezza, il primo pezzo che dipinsi in assoluto nella mia brevissima carriera di giocatore di Warhammer, che era impossibile giocare 45 minuti solo per allestire il tavolo, fu proprio la Benshee, un pezzo dell'esercito di Conti Vampiro, anche perché era abbastanza semplice da dipingere, diciamo che sulle figure spettrali puoi lavorare su un certo tipo di colorazione diverso, più sulla sfumatura, sull'effetto di un certo tipo, non devi andare lì con la precisione chirurgica, su un soldato di un reggimento che deve avere lo scudo gigliato dipinto con il rosso all'interno, il bordo nero, cioè puoi giocarci un po' di più sulle creature di questo tipo. E quindi il mio primo pezzo, dovrei averlo da qualche parte ancora, è il mitico personaggio della Benshee. In italiano l'hanno tradotto così perché evidentemente nessuno, levato qualche fanatico del fantasy, conosce tale figura. Allora, il film è molto particolare, finita la visione assieme al buon Luca, Luca il fisioterapista, ci siamo detti attendiamo un attimo, riflettiamoci, perché questo film dice molto, ma dobbiamo trovare i termini giusti per poter esprimere ciò che ci ha trasmesso. Solitamente quando un film ha su di me tale effetto, alla fine con il tempo si rivela sempre una bomba. Cioè più penso ai film di questo tipo, ai film che non mi arrivano direttamente ma lasciano dei piccoli semini, più ci penso e più diventano interessanti. Colgo sempre sfumature in più, magari anche rivedendolo. E riflettendoci, un paio di giorni sono arrivato a questo punto, quindi devo parlarne. Ovviamente lo scenario è un'isola, come da titolo, fuori dal mondo, uno scenario al di là dell'isola, dall'altra parte del mondo, sembrano proprio due universi paralleli, c'è la guerra, una guerra civile, ovviamente ambientato in Irlanda, e la guerra è sfondo. I personaggi di quest'isola se ne disinteressano, la guardano con normalità, qualche curioso, qualche fanatico anche, che apprezza la guerriglia, un personaggio terrificante all'interno dell'opera. Però questo serve, questo escamotaggio da parte di McDonald's, ovviamente non farò spoiler, ragazzi, serve per separare ancora di più questo piccolo pezzettino, poi piccolo tra virgolette, però questo piccolo pezzettino dal mondo, da tutto il resto. C'è un ecosistema composto da poche persone, almeno quelle che vediamo, un unico punto di ritrovo, che è questa locanda, insomma, questo bar, questa birreria, dove tutti, tutti i protagonisti, insomma, gli abitanti del villaggio, devono recarsi per avere un minimo contatto con ciò che accade in città. Diciamo così, è non solo un luogo di ritrovo, ma un vero e proprio unico luogo in cui accade qualcosa. Il film mi ha fatto riflettere molto sulla noia, sul coraggio, anche di abbandonare un posto, o una condizione in generale, di comfort. C'è solo un personaggio femminile che deciderà di intraprendere un percorso diverso da quello degli abitanti. C'è anche noia proprio nei protagonisti, nei protagonisti di questo villaggio, perché l'impossibilità di confrontarsi con il mondo esterno e di avere pochi stimoli, date le poche conoscenze, le poche esperienze e le poche possibilità di svago, le poche anche possibilità artistiche, che nonostante ci siano anche qui alcuni spunti interessanti, ma ci arriverò, portano l'essere umano, ovvero questi personaggi all'interno dell'ecosistema, ad un deperimento interiore, ad un'accettazione della noia, e quindi diventano tutti noiosi. Ed è una battuta che viene proprio proferita proferita da questa persona che poi invece decide di andarsene da questo luogo che è l'opposto del luogo della perdizione. È una perdizione semmai all'interno di un meccanismo silente che ti porta via gli anni della vita senza che tu te ne renda conto. Abbiamo il grandissimo Gleason che spiega questo concetto ad un certo punto, così, dalla mattina, dalla sera alla mattina, si sveglia, un musicista, un artista, e si rende conto che sta buttando il suo tempo. Perché? Perché, come vi dicevo, quest'ambiente non è assolutamente un incentivo per la proliferazione di pensieri artistici, di opere, si è circondato di persone noiose e in realtà troverà risposta in questa donna alla sua conclusione, anche corretta, se vogliamo, ma in cui si autoesclude. Questa donna, ovviamente, riferendosi a Gleason, dice siete tutti dannatamente noiosi. Siete tutti dannatamente noiosi. e quindi questo musicista ad un certo punto decide di rompere un'amicizia con il personaggio di Colin Farrell. Perché? Semplicemente perché non c'è più stimolo. Mi riempi di cazzate, non cazzate, bugie, di cose superflue. Cioè, troppo superfluo, non riesco a prendere nulla da te. E io non mi sento neanche incentivato nel darti qualcos'altro di me. Ovviamente questo è un personaggio che tende ad elevarsi dalla massa, dalle pecore, dal gregge, ma in realtà è esattamente come loro. Semplicemente è meno consapevole della sua condizione di... lui cerca anche un pochino di impegnarsi anche con gesti estremi che riguardano mutilazione, ma soprattutto in termini musicali, no? Comincia a scrivere qualcosa che poi ai nostri occhi non sembra nulla di che per autoconvincersi, più che convincere gli altri, di essere diverso, diverso da quel piattume noioso che lo circonda. Quindi è un film meraviglioso perché non va banalizzato ovviamente in chiave ok, nei piccoli paesini non succede un cazzo, andatevene. Può esserci anche in parte questo, ma è un concetto molto più profondo. Questo può avvenire anche in grandi città, l'annichilimento dell'individuo. Ne parlava in realtà già Antonioni ai tempi. è un film se vogliamo anche un po' di stampo italiano anni 60, anni 70, no? Un po' alla professione reporter, però lì si cercava di evadere con il viaggio. O alla notte, appunto. Questi personaggi che sono costantemente in preda alla noia, la noia. Alle volte la noia può aiutarci, può aiutarci perché va in contrapposizione con ciò che è la modernità e l'eccessiva velocità, la produzione, la produzione ad ogni costo. Produci, produci, vai avanti, vai avanti, resta connesso, resta connesso. Ogni tanto fermarci e riservarci quei piccoli momenti di noia per riflettere, per trovare degli scamotage contro la noia. L'ho raccontato più volte io da bambino, ho avuto la più grande spinta creativa e di lavoro anche su me stesso grazie alla noia. ultimamente non è più così per l'eccesso di stimoli che abbiamo ovviamente. Però qui anche perché parliamo di un'epoca diversa, quindi un mondo non connesso chiaramente, non c'è nulla e quindi i temi sono tanti, bisognerebbe anche approfondire un attimo alcune figure all'interno dell'opera ma non voglio farlo per evitare spoiler, comunque la Benshi se vogliamo è all'interno di un personaggio una donna anziana che si vede che sembra un po' una strega viene chiamata così un po' Anna Oksa però Anna Oksa Benshi in effetti ce la vedo che è anche affascinante come personaggio in generale come figura la Benshi e quindi questa figura che sta lì e sembra un po' sopra le parti e ovviamente c'è il sarcasmo c'è l'ironia pungente di McDonagh che mi piace tantissimo soprattutto una battuta in relazione alla morte di un genitore di un personaggio non importante ovviamente quindi non è uno spoiler però a un certo punto Colin Farrell fa diciamo una diciamo che crea una sorta di bugia non proprio bianca per mandare via una persona da quest'isola e si inventa una balla sulla morte del padre che trova conferma in realtà nella morte dell'altro genitore forse era della madre e il padre in realtà era morto così però vabbè adesso non voglio proprio dirvi la battuta per non rovinarvi la visione dato che è no spoiler però molto molto divertente e anche come viene utilizzato Colin Farrell da McDonagh funziona tantissimo ha questa faccia che da un secondo all'altro riesce a cambiare espressione da una simil demenza inettitudine proprio nello sguardo stupidità anche se vogliamo o eccessiva bontà ingenuità a cattiveria solida cattiveria a certo punto questo personaggio cambia radicalmente per delle motivazioni e vedi nel suo volto un'altra persona per poi ritornare diciamo nella configurazione iniziale nel momento in cui questo personaggio si rende conto di avere magari esagerato in relazione ad una casa ma non solo anche sul finale il mio amore per gli animali mi ha fatto apprezzare alcuni aspetti del personaggio di Colin Farrell e che devo dirvi è un film che dovete assolutamente vedere perché sicuramente vi metterà in discussione con voi stessi non sottovalutatelo non è un film noioso dura un po' meno di due ore assolutamente però è un film che giustamente si prende i suoi tempi è ridondante proprio per sottolineare questa eccessiva ciclicità e questa noia come vi dicevo la ripetitività delle azioni di questi personaggi e degli uomini all'interno di questo ecosistema che sono sempre gli stessi c'è la guardia del villaggio che è un personaggio terrificante c'è il barista c'è quello definito lo scemo del villaggio per l'appunto c'è la strega quindi serve un ritmo di questo tipo potreste rimanere un attimo interdetti alla fine del film però prendetevi il vostro tempo rifletteteci per un paio di giorni magari e poi tornate qui per scrivermi un commento vi lascio con uno spot realizzato dal mitico Niccolò per WPN che ormai conoscete e quindi ci vediamo alla prossima recensione dovrei andare a vedere The Whale anzi senza dovrei vado a vedere The Whale stasera in anteprima con Giulia quindi se riesco la butto pure in mezzo per una recensione vediamo se facciamo in tempo perché secondo me si fa un po' tardi sicuramente lo recensirò comunque del mitico Aronofsky mi lascia lo spot la città è sotto attacco questa mattina è comparso un gigantesco mostro hacker che sta rubando tutti i dati dei cittadini a quanto pare nemmeno il cerebro podcast è riuscito a fermarlo quindi chi ci salverà adesso? ho un regalo per te Aronofsky no dannazione Marra greve c'è solo una persona che può sconfiggerlo adesso lo chiamo Capitan NordVPN abbiamo bisogno più di te presto Capitan NordVPN il tuo regno di terrore è finito con me adesso i dati sono al sicuro NordVPN link in descrizione e nel commento in evidenza